Sono Andrea Grilenzoni, direttore generale di GARC S.P.A. Mi chiamo Fabrizio Bosi, responsabile dell'ufficio ingegneria. Mi chiamo Roberto Grilenzoni, responsabile sviluppo mercati dell'azienda, nonché direttore tecnico. GARC nasce nel 1975 con l'obiettivo di fornire dei servizi completi al mondo delle costruzioni. Oggi GARC impiega 250 dipendenti e sviluppa un valore della produzione di 70 milioni di euro. Noi siamo diventati un punto di riferimento nel settore delle costruzioni e dei servizi per l'ambiente. Realizziamo edifici e forniamo servizi nel campo della gestione ambientale. Il nostro obiettivo è prenderci cura di questi sistemi complessi. Quello che abbiamo cercato di tenere sempre presenti sono i nostri valori. Ecco perché la tecnologia è assolutamente un perno fondante del nostro agire ed ha avuto un'influenza forte anche nei nostri processi organizzativi. Stiamo gestendo il 90% dei processi aziendali con prodotti Team System. I processi di progettazione, preventivazione e produzione col software Vision ACPM integrato col modello QTO, riusciamo ad importare dei modelli realizzati con i software BIM all'interno del programma gestionale. Stiamo gestendo i processi degli acquisti, dell'amministrazione e della finanza con il software Agliante collegato a CPM tramite Agliante Costruzione. Mentre prima riuscivamo a preventivare al massimo 2-3 milioni di euro nell'arco di un mese, attualmente siamo arrivati a preventivare quasi 25 milioni di euro. Gestire una mole di dati necessita di sistemi informativi adatti e molto performanti come quelli di Team System. Per questo l'abbiamo scelto come partner per sviluppare questo nuovo progetto e analizzare insieme a loro i mondi del 4D, 5D, 6D, 7D del progetto BIM. Questi mondi sono i costi, i tempi, gli efficientamenti energetici e il service nel mondo delle costruzioni. Grazie a questo sistema siamo riusciti a realizzare 56 mila metri quadri di un edificio industriale a Imola e l'abbiamo realizzato in soli 6 mesi. Abbiamo adottato come strumento di lavoro una tecnologia BIM e abbiamo adottato come filosofia di lavoro un concetto che porta a lavorare insieme. Tecnici, proprietà e impresa seduti attorno a un tavolo e hanno deciso tutto insieme senza avere degli antagonismi e siamo arrivati ad avere il risultato finale. Il rapporto fra Gark e Team System è un rapporto di collaborazione e di grande cambio ed è una grande crescita per Gark potersi avvalere di un partner di questo tipo. Oggi, come noi siamo partner dei nostri clienti, abbiamo bisogno di avere fornitori partner che ci accompagnino nel percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.